e ciao a tutti ragazzi al vostro mascarato e ben ritrovati anche oggi per una nuova recensione del nostro fantastico broli ragazzi come avevo anticipato nel video precedente dove abbiamo unboxato e recensito goku super saian questa volta tocca al nostro broli che ho già ragazzi aperto per questioni di tempistiche che ora vi farò ovviamente vedere dopo aver visionato la scatola innanzitutto ringrazio come al solito il mio negozio di fiducia resolution shop che mi ha dato in prestito sia goku che ovviamente questo broli e a palermo per qualsiasi info ragazzi ricordo che potete contattare me in privato tramite il gruppo facebook dove c'è il link appunto in descrizione per poter acquistare le nostre figure o comunque sia qualsiasi info ragazzi basta contattarmi ma andiamo subito ragazzi con la scatola come potete vedere c'è stampato il nostro broli super saian del film sempre collaborazione fra ban presto e bandai ma lascia il marchio ovviamente bandai le varie scritte che già avevamo visto nelle video precedente con goku praticamente la stessa scatola visto che sono della stessa serie qua come potete vedere la nostra figure statica già esposta qui l'effetto ragazzi che sta dando il pugno ovviamente come c'era in goku con l'onda energetica broli sopra sempre la scritta sotto le classiche pubblicità e avvertenze ragazzi passiamo subito a broli il pezzo più importante eccolo qua il nostro broli super saian c'è una panoramica piccolina della nostra figure anche questa come goku ragazzi è ben realizzata bel painting pressoché come possiamo dire opaco al solito ragazzi non è lucido anche qui la capigliatura di broli super saian è fatta davvero bene con delle sfumature di giallino che vanno ragazzi sul bianco quasi nelle punte come potete vedere a secondo ovviamente la luce che che arriva sulla figure posa molto dinamica di broli mentre sta sferrando un pugno anche questa ragazzi purtroppo in scala con goku che ripeto è piccolino ma andiamo subito a vederla meglio nel dettaglio ragazzi partendo dal volto che ovviamente è fedele al broli del film ben fatto con i capelli anche qui non si vedono attaccature particolari anche loro fatti davvero bene la classica tuta di saian del nuovo modello ragazzi di super anche questa fatta davvero bene con la muscolatura di broli ragazzi che è sempre possente ma non come quando diventa super saian full power ecco qua la muscolatura è sempre una bestia broli non non vedo sfumato cioè sfumature non vedo ragazzi difetti eccessivi di painting anzi c'è qualche sfumatura di dettaglio davvero bella la cinta ragazzi al solito che ricordo che è realmente l'orecchio del mostro in cui si allenava nel pianeta dove è atterrata la sua navicella ovviamente i pantaloni in questo violetto anche qui qualche sfumatura leggermente più scura nessun difetto di painting e poi ragazzi gli stivali qui ecco forse il primo difetto di painting che riesco a trovare vediamo riesco a mettere a fuoco non riesco a mettere a fuoco lo stivale ecco qua vedete e poi ragazzi la classica basetta che mette ban presto e ormai anche ban dai visto che è una collaborazione che a me non piace completamente in queste pose dinamiche ecco perché preferisco appunto le grandista preferisco delle pose un po più statiche ma almeno non ci sono questi rialzi neri ragazzi che a me non piacciono completamente figure molto bella ragazzi da mettere ovviamente in combo con goku o vegeta della stessa serie anche questa volta ragazzi se vi è piaciuto il video lasciato un like sotto in descrizione come ho detto ragazzi c'è il mio c'è il link per il mio gruppo facebook potete farmi qualsiasi domanda per quanto riguarda le figure che recensisco iscrivetevi sempre al mio canale ragazzi attivate la campanella così sarete sempre aggiornati sui video che faccio da broli ragazzi super saian da mascherato è tutto alla prossima recensione